In questa scatola metteremo tutti i regali per il mio nonno Di chi hai comprando domani? È mio! Qui c'è una lista, devi compilare scrivendo quello che vuoi Queste sono le cose da prendere, andiamo Abbiamo il bottino Compiliamo la scatola, prima cosa Soldi Soldi Diciamo che su questo non posso aiutare molto Giusto qualche centesimo per soddisfare la sua richiesta Caffè Ce l'abbiamo La pazza è quello che piace a lui, quindi stop Andare a letto Questa richiesta è stata fatta perché non voleva compilare la lista e voleva dormire Quindi, dopo che è stato messo in lista, ho pensato di prendere un cuscinetto confiabile La salute Ma quella non si compra Ah, e allora, non voglio niente Qualcosina La pace Bagno schiuma Ce l'abbiamo Un po' di ingresso a una confezione che ricevremo Una shampoo E un altro bagno schiuma, così è soddisfatto Una birretta fresca No Ah, la cantela per... E c'è anche il 6 Curva Perché l'occhio tu c'è la curva, non lo so perché Quella la prenderò domani con la...